Percy. Percy aveva portato Annabeth a fare delle passeggiate romantiche in passato. Non era questo il caso. Stavano seguendo il corso del fiume Flegetonte, inciampando sul terreno nero e vetroso, saltando crepacci e nascondendosi dietro le rocce, ogni volta che le vampire rallentavano. Era difficile mantenere la giusta distanza. Né troppo vicini, per non farsi Kelly e le sue compagne nel buio della foschia. Il calore del fiume bruciava la pelle. Ogni respiro era come inalare una boccata di fibra di vetro allo zolfo. Quando avevano sete, il massimo a cui potevano aspirare era un sorso di fuoco liquido. Eh già, Percy sì che sapeva come far divertire una ragazza. Se non altro, Annabeth non soppicava quasi più. La caviglia sembrava guarita. Dagli graffi erano scomparsi. Si era legata ai lunghi capelli biondi con una strisciolina di jeans strappata dai pantaloni. Nella luce infuocata del fiume, i suoi occhi grigi scintillavano. Era distrutta, coperta di foligine e vestita come un senza tetto, ma Percy la trovava bellissima lo stesso. Certo, erano nel tartaro. Avevano scarsissime probabilità di sopravvivere. E allora? Il figlio di Poseidone era così felice che fossero insieme, da provare l'impulso assurdo di sorridere. Persino fisicamente si sentiva meglio, anche se a giudicare dei vestiti sembrava reduce da un uragano di vetri rotti. Aveva sete, fame ed era terrorizzato oltre ogni limite, anche se non l'avrebbe mai confessato ad Annabeth. Ma si era scrollato di dosso, la disperazione del fiume Cocito. E sebbene l'acqua di fuoco fosse disgustosa, almeno sembrava tenerlo in piedi. Era impossibile avere la cognizione del tempo. Continuavano ad arrancare lungo il corso del fiume che si insinuava nel paesaggio brullo. Per fortuna le impuse non erano affatto veloci. Procedevano sulle zampe male assortite, di bronzo e di asino, sibilando e litigando fra loro, senza nessuna fretta di raggiungere le porte della morte. A un certo punto, le demoni affrettarono il passo eccitate e si tuffarono su qualcosa di simile a una carcassa spiaggiata. Persi non riuscì a capire cosa fosse. Un mostro caduto? Un animale? Le impuse li si avventarono di gusto. Quando le demoni passarono oltre, i due ragazzi andarono a vedere e non trovarono nulla. A parte poche ossa scheggiate e macchie luccicanti, rimaste lì a seccare al calore del fiume. Persi non aveva dubbi che le impuse avrebbero divorato i semidei con la stessa fuga. «Andiamo», allontanò delicatamente Annabeth dalla scena. «Non dobbiamo perderle». Camminando, Persi ripensò alla prima volta che aveva combattuto contro le impuse a Kelly, nella giornata di orientamento alla Good High School, quando era rimasto intrappolato nell'aula di musica insieme a Rachel. Sul momento aveva temuto di non avere scampo. Ora avrebbe dato qualunque cosa per avere un problema così semplice. Almeno all'epoca era ancora nel mondo mortale. Lì, invece, non potevano scappare da nessuna parte. «Certo che guardarsi indietro e ripensare alla guerra contro Crono come ai bei vecchi tempi era triste», si disse Persi. «Aveva sperato a lungo che le cose per lui e Annabeth potessero andare meglio. Ma i pericoli non avevano fatto altro che aumentare. Come se per la vita che ancora gli aspettava, le parche avessero deciso di usare il filo spinato al posto di quello normale. Così, tanto per misurare il loro livello di sopportazione». Dopo un paio di chilometri, le impuse scomparvero dietro un crinale. Quando Persi e Annabeth raggiunsero lo stesso punto, si ritrovarono sull'orlo di un'altra enorme scogliera. Il plegetonte si tuffava nel baratro, in una serie di cascate scoscese e infuocate. Le demoni si stavano calando nel precipizio, balzando di sporgenza in sporgenza, come stambecchi. A Persi balzò il cuore in gola. Anche se fossero riusciti ad arrivare in fondo, il panorama sottostante non prometteva niente di buono. Una pianura tetra, grigio celeste, irta di alberi neri simili a peli d'insetto. Il terreno era cosparso di vesciche. Qua e là, una bolla si gonfiava e scoppiava, eruttando un mostro, come una larva da un guscio. Persi dimenticò la fame. Tutti i mostri appena nati strisciavano e barcollavano verso un solo punto, un banco di nebbia nera che inghiottiva l'orizzonte come un fronte temporalesco. Il plegetonte scorreva nella stessa direzione. A metà della pianura incontrava un altro corso d'acqua nera, forse il Cocito, e formava con lui un unico potentissimo flusso fumante, che proseguiva verso la nebbia nera. Più Persi scrutava in quella tempesta di tenebre, meno desiderava andarci. Poteva esserci qualunque cosa, un oceano, un pozzo senza fondo, un esercito di mostri. Ma se le porte della morte erano in quella direzione. Era la loro unica possibilità di tornare a casa. Sbirciarono oltre l'orlo del precipizio. «Quanto vorrei che sapessimo volare», borbottò Persi. Annabeth si strofinò le braccia. «Ti ricordi le scarpe alate di Luke? Chissà se sono ancora qui da qualche parte». Persi le ricordava bene. Erano scarpe maledette e conducevano nel tartaro chiunque le indossasse. Per poco non si erano portate via il suo migliore amico, Grover. «Mi accontenterei di un deltaplano. Forse non è una buona idea». Annabeth indicò verso l'alto. Sopra di loro, sagome scure alate apparivano e scomparivano fra le nuvole rosso sangue, disegnando spirali nell'aria. Furie? Oppure qualche altro demonio? Il tartaro ne ha migliaia. «Inclusi quelli che mangiano i deltaplani, intuipersi. E va bene, allora scendiamo a piedi». Non riuscivano più a vedere le impuse sotto di loro. Erano scomparsi dietro un altro crinale, ma non aveva importanza. Dovevano andare, era chiaro. Come tutte le larve di mostri che strisciavano sulle pianure del tartaro, i due semidei dovevano dirigersi verso quello scuro orizzonte. Percy non stava più nella pelle.